Salve, bentornati. Oggi udite, udite, podcast su Cicerone, il grande oratore romano, sulla sua opera L'elogio della vecchiaia, in cui Cicerone definisce chi è il buon vecchio e perché in realtà la vecchiaia in un certo qual modo può essere una bell'età, intesa appunto come atto finale, come tempo della vita stessa. Prima di continuare però, già lo sapete, come al solito, sempre e comunque per Rothbard. Sigla! Benvenuto nella Biblioteca dei Campioni. Siamo Luca e Alessandro, missionari della libertà, e ogni settimana ti portiamo due recensioni fresche fresche dei migliori libri sulla piazza nel campo del denaro, del marketing, della crescita personale e perfino della filosofia liberale. Perché, si sa, come dicono gli americani, leaders are raiders. Quindi mettiti le cuffie e goditi con noi il meglio della mecca del sapere. Scrive Cicerone «Morti che siamo una volta, ogni sensibilità è spenta. I giovani devono meditarvici di buon ora. Perché non avvezzarsi e non darsi pensiero della morte? Chi non impara ad addomesticarsi con questo pensiero non può passare tranquillamente i propri giorni». Qui Cicerone, ragazzi, sta dicendo una cosa molto semplice, che non ha senso avere paura della morte durante la vecchiaia. Infatti, durante la giovinezza difficilmente si ha paura della morte. Invece, al contrario, questa paura è propria, spesso, della vecchiaia. E perché? Beh, perché il giovane sa che è giovane, per cui sa che la morte gli è ancora lontana, mentre il vecchio, sapendo che è vecchio, la sente molto più vicina. Tuttavia, rimarca Cicerone, due punti restano in vero fondamentali. In primo luogo, il giovane comunque invecchia anche se è giovane, per cui deve prepararsi alla vecchiaia comunque. In secondo luogo, che il vecchio che ha paura della morte è quel giovane che da giovane, in età giovanile, non si è preparato alla vecchiaia, dunque alla morte, per cui nemmeno ci ha pensato. Chi è allora il buon vecchio, secondo Cicerone? Ebbene, il buon vecchio è colui che si prepara alla morte, per cui al tempo. E al contrario, chi è, secondo voi ragazzi, il vecchio poco virtuoso, dunque il cattivo vecchio? Beh, il cattivo vecchio è colui che ha paura della morte, ma non tanto perché abbia paura della morte di per sé stessa, ma perché non ha utilizzato bene il proprio tempo. Cioè non ha vissuto in preparazione del momento finale. Infatti, se avesse utilizzato bene il proprio tempo fin dalla gioventù, è chiaro che sarebbe invecchiato bene, per cui durante la vecchiaia non avrebbe avuto paura, non avrebbe paura, non avrebbe avuto paura della morte. Bisogna quindi rammentare questo insegnamento di Cicerone. È vero che il giovane è giovane e il vecchio è vecchio, però bisogna ricordare anche che non siamo degli dèi, non siamo immortali. Di conseguenza è importante l'utilizzo di ciò che si ha, al di là di ogni credenza, perché alla fine il tempo passa inevitabilmente per tutti. Perché certo, certo che esistono i privilegi, così come le doti o le inclinazioni, non v'è dubbio, ma se non utilizzati bene, quindi secondo ragione, dunque anche secondo virtuoso, saranno sprecati non portandoci a una felice vecchiaia. In sintesi, ciò che è rilevante è il buon uso, una propria facoltà, per Cicerone infatti, di per sé stessa, se lasciata a sé stessa, è dispersa senza un'adeguata applicazione. Difatti, ricorda appunto Cicerone, l'unico modo per sviluppare una qualunque facoltà è applicarla, per svilupparla mettendola in gioco, dunque misurarla sulla virtù. Scrive Cicerone, colui che invecchia bene è questo. Vivere bene significa utilizzare al meglio le proprie facoltà, intese anche come inclinazioni, per lo sviluppo delle proprie virtù. In questo modo il tempo non sarà sprecato e la memoria, una volta giunta alla vecchiaia, saprà di aver agito bene, arrivando anche il soggetto ad essere soddisfatto di non essere invecchiato senza virtù, avendola applicata. Di conseguenza, ragazzi, è chiaro che colui che invecchia secondo virtù non sentirà più di tanto su di sé il peso del tempo, nel senso che è vero che ha vissuto diverso tempo, ma avendo vissuto il tempo secondo il buon utilizzo, è chiaro che arriva alla vecchiaia felicemente. Per cui il buon vecchio, ovvero colui che ha agito curando se stesso, sarà capace ancora di vivere nel modo giusto, riuscendo anche a mantenere la capacità del ricordo, perché, sottolinea Cicerone, il ricordo e la memoria si mantengono in quei vecchi che fin da giovani hanno educato se stessi alla crescita, per cui ha il proprio sviluppo e la propria virtù, intesa come l'utilizzo del proprio tempo sulla linea della propria essenza. Di base l'abitudine, quindi il messaggio di Cicerone è molto semplice e molto chiaro. Tutto dipende, tutto dipende in realtà da noi. Difatti, in primo luogo, riconducendomi anche al podcast di Alessandro su Carol Dweck e sul suo libro, tutto dipende dal mindset, dunque da come tu hai scelto di impostarti per vivere. In secondo luogo, tutto dipende anche da come ci si arriva al mindset, cioè il percorso, il percorso che ognuno di noi fa, il tragitto che ognuno di noi segue. Capite bene allora che chi si ama per Cicerone è anche chi si cura, è inevitabile questo. Ecco perché chi invecchia bene, non avendo paura della morte, è anche colui che ha vissuto amandosi, mentre colui che invecchia, avendone paura, è colui che non si è applicato, arrivando infine per invidiare la felicità altrui, piangendo la propria condizione di vecchio. Ed è palese che sia così, nel senso che l'invidia che nasce da quest'ultima figura è chiara. Ma il problema è sempre di questa figura, perché ha mancato del buon utilizzo del tempo. Di conseguenza, capite bene quanto sia importante, anche pensando proprio alla vecchiaia, quanto sia importante l'abitudine, cioè ciò che si è tendenti a fare quotidianamente. L'ingegno, infatti, anche nella vecchiaia, fa notare Cicerone, è avvezzo più che altro a coloro che vivono o hanno vissuto proattivamente, per cui che hanno fin dalla giovinezza buone abitudini, non avendo, cioè, l'habitus sbagliato. La lucidità è dunque proprio di tutti, anche dei vecchi, cioè di coloro che hanno saputo mantenere la virtù, che hanno vissuto secondo virtù, fermezza e proattività. Ma non perché queste siano belle parole, ragazzi, non perché siano belle da dire, ma perché proprio da tali componenti si costituisce una buona formazione, e quindi anche come educazione, intesa appunto come volontà di potersi migliorare a dispetto delle difficoltà che ci sono, inevitabile, ognuna delle difficoltà nella vita. Però, ricordatevi, questo vale per la componente delle inclinazioni per tutti, cioè non per alcuni in particolare, perché coloro appunto che diventano grandi, è chiaro che partono da questo punto, cioè dello sviluppo di se stessi, dalla proattività. Non è che uno dal giorno alla notte ci arriva subito. È chiaro però che serve tempo, e la vecchiaia, se si è vissuta bene la giovinezza, può essere ancora quel tempo. Dunque, scrive Cicerone, Esiodo, Simonide, Stesicoro, Isocrate, Gorcia, Pitagora e il principe dei filosofi, Democrito, Platone, Zanocrate e Poscia Zenone, Cleante e colui che tutti vedevati in Roma, lo stoico diogine, vennero forse costretti per vecchiezza ad abbandonare gli studi? Oppure, tanto quanto in giovinezza, li proseguirono nel corso della loro vita? È chiaro ragazzi che li proseguirono fino alla morte gli studi, ma non perché fossero santi, ma perché ne avevano fatto l'abitudine, cioè l'habitus giusto, l'habitus migliore. Prendiamo l'esempio di Platone, ok, concentriamoci un attimo su Platone, va bene. Il suo vero nome era Aristocle, ma perché si chiamava Platone? Cioè in realtà perché tutti lo chiamavano Platone? Perché aveva le spalle larghe, la testa grande, era alto, forte e robusto, ma non peccava nemmeno di intelligenza. Per quale motivo? Cioè lui era forte, ok, aveva un bel fisico, però allo stesso tempo lui era anche molto intelligente. E per quale motivo era così? Beh, in primo luogo perché, ad esempio, ogni giorno faceva ginnastica, prendendosi cura del proprio corpo, avendo quindi messo in gioco la sua costituzione fisica di partenza per mantenere tale condizione. In secondo luogo perché faceva filosofia, prendendosi anche cura della propria mente e della propria anima. Quando prima ho detto tale condizione, intendo la sua inclinazione, o meglio la sua propria condizione. Cioè lui di base aveva un bel fisico, però l'ha mantenuto, no? Così come poi ha mantenuto l'anima. Quindi, primo punto, Platone in tutta la sua vita si è messo in gioco sia fisicamente che mentalmente, mantenendosi attivo, perciò arrivando da vecchio ad essere comunque proattivo. Secondo punto, Platone è un esempio che invecchiare bene significa curarsi a 360 gradi di se stessi, per cui prendersi cura anche del proprio corpo, oltre che della mente e della propria anima. Fra l'altro, ragazzi, Platone, se non erro, mi sembra sia morto sull'ottantina, che per l'epoca non era per niente poco. Comunque, tornando da noi, in definitiva, curarsi di sé per invecchiare bene significa curarsi tanto dell'anima quanto del corpo. Lo stesso Platone lo dice nell'Alcibiade I. E quindi, in modo indiretto, essendo appunto Platone citato da Cicerone in quest'opera, lo dice anche Cicerone. Infatti, scrive Platone, bisogna sì dare più rilevanza alla cura dell'anima, ma non bisogna tuttavia, per questo motivo, trascurare la cura del corpo. Ora, perché vi ho fatto l'esempio di Platone? E voi direte, cosa c'entra? Beh, perché appunto l'ha citato Cicerone, quindi per arrivare a rispondere a questa domanda che Cicerone si pone. Vecchiaia, significa mancanza di forza? In realtà, no. Infatti, sottolinea Cicerone, guardate Platone. Lui è cresciuto avendo certe abitudini ed è morto sulla base della strutturazione precedente, proattiva delle proprie abitudini. Dunque, la domanda fondamentale di Crescita Personale è cosa significa crescere? Ebbene, crescere significa costituire delle abitudini che siano congeniali a noi stessi, alla nostra vita e dunque anche alle nostre inclinazioni. Infatti, ognuno è diverso e non è che uno può essere uguale a un altro, ma questo non significa che non possa vivere secondo determinate abitudini che possano migliorare la sua condizione, la sua vita, la sua qualità di vita. Quindi, attenzione, non dipende in primis dall'abitudine, ma dall'individuo, da noi stessi, perché l'abitudine è una conseguenza della causa, cioè di noi. Perché siamo noi la causa dell'abitudine, capite? Cioè, è ognuno di noi che deve imparare, sulla base anche di chi è, a vivere, quindi ad approcciarsi anche a se stesso, e tutti quelli che dicono che i privilegi sono sbagliati. In realtà, si sbagliano. Infatti, nessuno potrebbe invecchiare bene se non avesse di base delle inclinazioni e dei privilegi. E tutti ce li hanno. Certo, ci sono persone che ne hanno di più, altre che ne hanno di meno, ma tutti ne possediamo qualcuno. Il punto, ragazzi, non è quindi tanto quanti privilegi o inclinazioni si dispongono in partenza, ma come si coltivano, come si applicano. Perché, sì, sono importanti, ma ancora più importante e determinante è chiaro che ne è la loro coltivazione, dunque l'uso della persona. E questo, tra l'altro, lo dice anche Seneca. Ecco allora che, per Cicerone, l'uomo virtuoso non è colui che non ammette un proprio privilegio o inclinazione, ma al contrario, è proprio colui che li ammette, che li ricerca, non soffermandosi però ad averli in potenza, ma lavorando per strutturarli al meglio, dunque secondo le giuste abitudini, che poi dipenderanno anche dalla sua propria singolarità, intesa come diversa da quella di ogni altro. Dunque, in sintesi, in definitiva, il vecchio, per Cicerone, è colui che ha saputo esprimersi, avendo avuto anche il coraggio di rischiare secondo virtù, così da essere poi arrivato, alla fine della sua vita, ad essere in grado di essere felice, sapendo però anche di aver vissuto in un modo, non avendo però buttato via il suo tempo, non avendo quindi paura della morte, perché chi ha paura della morte ha buttato via il suo tempo, cioè non ha applicato, non ha applicato se stesso, non ha messo l'abitudine come conseguenza di se stesso, ma l'abitudine è giusta, l'habitus giusto. La vecchiaia fa paura? Dice Cicerone, essa è considerata orribile solo per coloro che ne hanno timore, per cui, per coloro che non hanno saputo vivere secondo virtù, ovvero, nemmeno secondo ragione rispetto a loro stessi. Codesti sono sciocchi, colui che ha memoria, infatti, è colui che ha anche imparato a vivere, dunque che, pure da vecchio, essendosi coltivato, sa ascoltare tanto quanto ricordare secondo memoria. Egli è dunque lieto. Cos'è, di conseguenza, ragazzi, la vecchiaia? La vecchiaia, ragazzi, è vita coltivata, coltivata, perché ognuno di noi può coltivare se stesso, e soprattutto, la vecchiaia è sempre nella giovinezza, perché noi continuiamo ad invecchiare il passo dell'invecchiamento esiste già di per sé nella giovinezza. Non è che un bambino non sia già vecchio, in un certo senso. Secondo il linguaggio aristotelico, un bambino è in potenza vecchio, perché diventerà attualmente, successivamente vecchio. Dunque, rispetto alla stessa filosofia, Cicerone aveva bene in coscienza, a questo punto, che Aristotele, in un certo qual modo, aveva ragione. e Cicerone conosceva, in un certo qual modo, Aristotele. E, a mio parere, non è sbagliato dire che chi è giovane non debba preoccuparsi di se stesso, nel senso proprio dell'abitudine, rispetto alla propria vita, per giungere poi alla preparazione verso la morte. Per quale motivo? Perché tutti noi, infine, ragazzi, invecchiamo. Dunque, nessuno di noi può pensare di non contestualizzarsi nella realtà, nel modo più proattivo possibile. E attenzione, le inclinazioni, ripeto, sono fondamentali, perché è da lì che si parte. Dunque, io vi saluto, vi auguro buona serata, mi raccomando, iscrivetevi alla Biblioteca dei Campioni, ai nostri canali Instagram e YouTube, mettiamo sempre video bellissimi, sulla crescita personale, sulla filosofia liberale, sul mindset, un po' di business anche, e non ne dice Alessandro, noi ci rivediamo settimana prossima e anche la mia ultima frase finale, naturalmente, sempre e comunque per anal... Ah, buon weekend, se l'ho già detto. Per analisa, bye bye.